Tra poche settimane, in novembre, negli Stati Uniti si voterà per rinnovare le Camere. La Camera è parte del Senato e ci si domanda per chi voterà oggi l'elettore più importante in quel paese. L'elettore più importante è il virus dell'Ebola. E sì perché il panico, il terrore, la psicosi creata da questa epidemia, che finora ha toccato appena due persone negli Stati Uniti, la terza, quella che purtroppo è morta, veniva direttamente dall'Africa, sta aumentando la sfiducia, il malcontento e la perplessità nei confronti del partito di Obama, cioè del partito democratico. Essendo anche Obama africano, per metà perlomeno, questo contribuisce a creare l'impressione che lui abbia sottovalutato questa minaccia. sembra incredibile che un'epidemia, una malattia, anche se così ridotta, produca degli effetti politici. Li produce perché le autorità hanno mentito. Hanno mentito le autorità sanitarie in Texas e ha pasticciato molto anche il governo americano. E quando si mente cade la fiducia e si vota contro. Sì, è il vecchio non piove governo ladro, purtroppo lo conosciamo bene in Italia, ma è c'è il virus, governo ladro. L'Ebola voterà contro Obama.